C'è la sfilata di Varenna ad Agnano con Giampalo Minucci in sulchi al più forte trottatore di tutti i tempi, il campione che ha visto oggi secondo me... Sì, è vero, è stato battuto il record di Varenna, però di Varence ce n'è uno. Posso farti una domanda tecnica, Manuele? Allora, che differenza ci può essere a livello di prestazione effettiva viste i due tipi di piste, cioè quella su cui ha corso Varenna e quella attuale di Agnano che probabilmente è più veloce, forse è più veloce, chiedo. No, assolutamente più veloce, l'ha sottolineato anche Mimmo Deci in intervista con Luigi Migliaccio, per carità, il lavoro è ottimo, che è stato fatto dalla nuova gestione è ottima, la pista è ottima, l'ha detto anche Enrico Bellei, pista soffice, e quindi ottima... Cioè la domanda è, Varenna è su questa pista, cosa avrebbe dovuto fare? Non lo so, secondo me sarebbe scelto sotto l'1.8, 1.7, non so cosa avrebbe dovuto fare, cioè va tarata secondo me di almeno un secondo e mezzo rispetto alla pista nella quale si esprimeva Varenna. Questa è lippica però, guardate, questa è lippica, è anche lippica, non soltanto le notizie che tante volte in maniera anche distorta vengono date sui media, questa è lippica, guardate Varenna. Erano tanti anni che non si vedeva così tanta gente in un ipodromo del trotto quantomeno, guardate... I bambini, il coinvolgimento, l'emozione. E' pieno, è pieno, è veramente uno spettacolo e ci emozionano... Guarda tutti i bambini con le bandiere, guarda. Sì, ci emozionano queste immagini di festa, la gente napoletana è sempre stata innamorata del Gran Premio Lottere d'Agnano, è sempre stata presente, però gli ultimi anni forse c'era stata qualche defezione di troppo, la crisi si sentiva. Ebbene, vedere Agnano riaperto è una gioia, vederlo così pieno è una gioia doppia e io vado da Luigi Migliaccio che ha vicino alcuni dei fautori di questa rinascita. E allora Emanuele, grazie, guarda, non ti nascondo un minimo di emozione a vedere un bagno di folla davvero entusiasmante. Non so se avete potuto vedere le immagini delle tribune prima, perché al di là di quello che accadeva in pista era quello che c'era sugli spalti, un altro spettacolo che vale la pena di essere... Stavamo sottolineando proprio questo Luigi, sì, immagini emozionanti. 10-12 mila persone forse oggi ad Agnano, ma se si potesse vedere anche al di là, di fronte, nella parte alta delle scuderie, ci sono le persone in quarta fila appoggiate allo steccato, per cui veramente c'è di tutto. Comunque, parliamo anche di dati. Allora Emanuele, per la tua gioia ti do subito le quote fisse di questa finale e qui sono quote interessanti, perché Aldo Migliaccio non va da spese qui. Assolutamente, bisogna divertirsi. Numero 1, 5 e 50. Numero 2, 1 e 70. Commander 3, l'India di Cassei 6 e 50. Napoleon Bar 5 e 50. Marriels 10. Marron M 7 e 50. Longhorn Rift 30. Moses Rob 15. Questa è l'apertura. Questa è l'apertura. E sentite Emanuele, 1 e 70 per McGrace 3, Commander Crow. Questa è l'apertura. Possiamo dare un dato importante Aldo, che volumi di gioco ci sono stati? Adesso siamo a 130. 130 sul campo, quanto di quota fissa? Della quota fissa dei 130 sono 32 mila prima dell'apertura del gioco su questa questione. Insomma, questi sono i dati per quel che riguarda il gioco. Invece con Massimo Torchia voglio parlare un po' anche di Galoppo, così faccio contento anche Stefano Luciani che è in studio. Allora, Massimo, partirà anche la stagione del Galoppo? So che stai lavorando duramente. Cosa ci vuoi dire? Innanzitutto, complimenti a Stefano che oggi ha vinto veramente una bella... Mi ti credevi, mi ha vinto una bella sua, l'aveva da lui. Quindi complimenti Stefano, complimenti a te a parlare, complimenti a te. E oggi ho assistito a un miracolo, a un miracolo della natura, a un miracolo incredibile. Pensare che 30, 45, 40 giorni fa, neanche 45 giorni fa, qui era una banda di sale, era in un deserto, era un ipodromo, non era un ipodromo, era... Ma dai niente ragazzi. Non lo so, non voglio dire una cattiva parola, ma veramente non era un ipodromo. Adesso, non lo so, c'è un miracolo, i miei soci sono veramente bravi, sono bravissimi. Faccio i miei complimenti innanzitutto a loro, che sono veramente bravi e in gamma, infaticabili. Dunque, partiamo di questo, parliamo del galoppo. Noi dovremmo ritornare, dovremmo rientrare, dovremmo iniziare la riunione. Se tutto va bene, credo che va bene, l'erba è perfetta, la pista è un biliardo, i box stanno, anzi se qualche d'uno vuole venire, ben venga, abbiamo delle bellissime offerte. Insomma, la riunione è bella lunga, iniziamo, dovremmo iniziare o il 9 novembre o il 13 novembre, poi finire a fine febbraio. Il Montevremi è abbastanza... Interessante. È abbastanza interessante. Oltre questo, abbiamo recuperato tutti i gran premi, grazie anche al dottor Ruffo e gli altri funzionari, che sono stati veramente bravi in questo caso. Ci hanno fatto recuperare tutti i gran premi che non abbiamo disputato. e credo di poter fare una bellissima giornata o il 28 dicembre, che è sabato o il 29 dicembre. Un bel meeting con otto corse, se ci riusciamo, sette, di cui abbiamo raccolto tutti questi gran premi. Quindi attendo tutti. Inoltre ci sarà anche una chicca per i proprietari, i miei colleghi proprietari, perché essere anche parte di gestione dell'aeriponoma, io sono anche proprietario. Quindi per la categoria ci sarà una sorpresa che prima che inizierà il programma, la riunione, avvererò. Insomma, una bella sorpresa per i miei colleghi proprietari. Massimo... Bene, allora... Sì, sì. Massimo, voglio ringraziare Massimo Torchia. Sono belle parole, soprattutto quelle che ci descrivono la situazione del Galoppo Agnano in bella ripresa. Fa molto bene sentire parlare in termini così positivi del Galoppo napoletano che per troppo tempo abbiamo un po' dovuto mettere da parte. Io ho veramente un in bocca al lupo veramente grande, perché Napoli è sempre stata una piazza molto importante per diversi motivi, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio dello spessore delle corse e della passione che c'è ovviamente anche lì per le corse, anche per le corse al Galoppo e Massimo Torchia è, direi, l'esponente più importante in questo senso. Quindi veramente un grosso in bocca al lupo e speriamo che anche la Napoli che galoppa possa tornare fasto di un tempo. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Guarda Stefano, io non me ne intendo, però sono andato sulla pista del Galoppo e tra l'altro potete vedere che è di un verde stupendo. ho visto un'erba da fare invidia veramente a qualunque campo e a qualunque tracciato. Varenna assaggiata l'erba. Ma poi la pista di Agnano, la famosa salitina di Agnano, è in realtà una salita che fa selezione, per questo parlavo di selettività e anche di spessore tecnico delle corse di Napoli, anche per questo motivo qua, non è soltanto una frase di circostanza. Bene, poi abbiamo fatto anche qualche ulteriore accertamento pressati anche da quello che diceva prima Emanuele, da quello che ha detto Domenico Deci sulla pista. Insomma, siamo andati a sentire i responsabili, ci hanno detto abbiamo rifatto il fondo, abbiamo trattato in maniera paziente, sono stati 15 giorni di assoluto lavoro con i grader, con tutti i macchinari importanti che si usano in questo caso e questo è il risultato. La pista non è assolutamente dura, non è assolutamente asfalto, come magari si potrebbe pensare vista le velocità, ma addirittura, ti ripeto, stando a portopista si fa fatica a sentire anche la battuta dei cavalli, per cui veramente in questo momento va detto questo. Poi vedremo quello che accadrà in futuro. No, no, ma Luigi forse ci siamo capiti male, quando io parlavo di poca sabbia non intendevo, non era una critica come fosse fatta la sabbia, che anzi abbiamo esaltato in questi giorni. No, no, ma io non l'ho interpretata come tale, ti sto solo relazionando su quello che No, siccome ho sentito l'intervista che ha fatto Emilio a Bellei, c'era un po' di polemica soprattutto da parte di Enrico Bellei, comunque il discorso era diverso, il discorso è che ho sottolineato anche prima, probabilmente c'è dei record fatti ad Agnano fino al 2012 e poi c'è un'altra pista, secondo me questa pista va tarata comunque sia in qualche modo rispetto a quella precedente, perché questo volevo far notare e secondo me, parlando prima con Stefano, non so se hai sentito, io la taro a occhio così un secondo e mezzo almeno più veloce rispetto a quella precedente, questa è una mia impressione da tecnico. Ed era una mia curiosità, la domanda mi è venuta spontanea, dico ma cosa avrebbe fatto Varenne su una pista come quella di oggi? Ma domanda profana voglio dire. Io ho detto sotto l'1.8 forse, 1.8. Un cenno del poi. Senti tanto abbiamo visto uno scorcio dei box, del lotteria, abbiamo visto i cavalli del lotteria, per cui siamo già in terma di finale. In clima, guarda io ti assicuro che c'è un frastuono, un vocello del puro veramente... Volevo fare i complimenti a Aldo Migliaccio per il coraggio che ha avuto, perché rispetto agli altri gestori di scommesse, lui ha dato, ha messo Megresa a 1.70, vi posso dire che Betflake a 1.50, Snai addirittura a 1.30, quindi da questo punto di vista evidentemente è stato coraggioso. E anche la quota di commande... Ma per giocare queste quote bisogna essere ad Agnano, eh? No, innanzitutto bisogna ricordarsi che bisogna giocare, giocare, qua 1.30 non si gioca, assolutamente. E poi tu devi sapere anche che Aldo conduce una sua battaglia personale, che ne ha parlato più volte, che è quella di portare il gioco sul vincente e sul piazzato probabilmente totalmente a quota fissa, giusto? Beh, almeno dobbiamo provarci, no? In Inghilterra mi sembra che il totalizzatore sia una nicchia, invece qua è il contrario. La sposiamo anche noi, almeno quantomeno io, da sempre, quindi soprattutto se non ci sono movimenti al totalizzatore validi, comunque sia, la quota fissa è una salvezza e soprattutto sai quello che giochi, sai quanto giochi... Siamo sul box di McGrace con le immagini, eh? E ti puoi regolare, sì, splendide immagini, abbiamo visto il proprietario dentro il box. Adesso non facciamo discussioni e pensiamo a questa lotteria. Bene, andiamo da Emilio, Emilio. Ci sono Luigi, i preparativi fervono e i cavalli stanno uscendo dai box per essere attaccati al Salchi. Riguardo al fatto dei record e della pista non c'è alcuna polemica, semplicemente ci sono diverse correnti di pensiero. Secondo me i cavalli fanno le migliori velocità quando le piste sono morbide, c'è chi la pensa diversamente. Per oggi dà ragione a me il fatto che siano usciti tutti questi record. Poi vedremo col passare del tempo. No, volevo dire, riguardo alla quota del favorito, a me che piace giochicchiare lo farei volentieri, soprattutto se mi fa un piccolo debito il signor Migliaccio. È veramente una quota appetibile, al di là di quello che poi sarà il risultato, perché come dicevi tu, 30% o mezzo, queste sono le quote degli altri... Comunque vediamo la cosa, perché sicuramente è un match, ma nel trotto, sapete tutti, il match si chiude sul paro, no? Sicuramente, sicuramente. E qui stiamo vedendo Napoleon Bar con Fabrizio Luà che sta collaborando a mettere infinimenti. infinimenti. Massimo, ovviamente noi ci auguriamo poi che anche per il giorno dei Gran Plena del Galoppo avremo queste immagini dall'inzellato. Ma non credo tanto, perché Napoli è più trotto il Galoppo, insomma. Io spero di avere almeno, non so, il 20% del pubblico che c'è oggi, perché oggi è veramente impressionante. In 40 anni, 50 anni, tra me il settore non ho mai visto questa gente, bella gente, gente nuova. La gente nuova è la cosa importante, che nuova è... Emilio, allora, dal punto di vista agonistico, vediamo i cavalli che stanno entrando, che sensazioni hai colto? Match stretto? Sì, devo dirti che, come avevo detto prima per il Regione Campania, per Prussia, mi auguro che poi il match si riveli più stretto di quello che può essere rispetto alle prime impressioni. Questo anche perché c'è odore di record, di ulteriore record, e sarebbe veramente, per lo spettacolo, sarebbe veramente il massimo. Quindi, chi vinca il migliore, ma io vedo un divario, anche nelle primissime posizioni. Poi i francesi sono bravissimi, sono bravi a sorprenderci. Staremo a vedere. Senti, visto che c'è lì Salvatore Carro, mi fa venire in mente il fatto che abbia scelto per Moses Robb il 9 per cercare probabilmente di inseguire un piazzamento, no? Sì, 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 sì. Una scelta concordata, ma valida, giustissima. Anche perché Moses Robb è un'autentica macchina da corsa e la schiena di Oibambam F in partenza può portarlo parecchio avanti. Senti, bisogna dare adito a Fabrizio Loa che ha portato in finale tutti e tre i suoi allievi. Ma il fatto che li abbia già portati a correre è già importantissimo. Che poi siano andati anche in finale ci potevano essere dei dubbi, però era certo che avrebbe portato Cavalli in ottima condizione. Assolutamente sì. Bene, allora vedremo ovviamente tra poco l'ingresso dei Cavalli in pista per questo 64esimo Lotteria di Agnano. Qui vediamo Marielle in quadrata. Poi abbiamo visto prima anche tutti gli altri protagonisti. Ecco Roberto Vecchione. Bisogna dire anche piuttosto polemici. Il team di Marielle è piuttosto polemico riguardo alla retrocessione in batteria. Io non ho visto la frontale, non sono in grado di giudicare, però devo dirti che erano piuttosto polemici. Beh, d'altronde è un'associazione in tal senso, ha voluto significare forse qualcosa già dal punto di vista della scelta del numero e poi chiaramente la possibilità di giocarsi una chance diversa forse. Vedremo, qui stiamo vedendo Commander Crow, con Fran Nivar, ecco Soluà che controlla un po' tutto. E stiamo tra l'altro vedendo anche le altre immagini delle scuderie. Io volevo sentire un attimo Salvio qual era il suo sentire in questo momento. Innanzitutto io mi sto asciugando ancora le lacrime per Varenne. Vi dico la verità. Veramente mi sono emozionato. Ho emozionato molto più di Milano dove l'ho presentato in occasione delle astre. È stato uno spettacolo veramente che mi rimane a dentro, ma per tanto tempo. Passato Varenne, interessiamoci ora della finale di questo Gran Premio Lotteria. Insomma, Meggrisa al comando, da 1 e 10, girare a largo sarà secondo me una cosa veramente difficile. Deve essere il miglior Commander Crow della carriera per girare del cuore a Meggrisa. Allora, Giorno Aldo Migliaccio intanto ha sentito la sua centrale rischi del centro di cuote. Insomma, dicci un po' che cosa sta succedendo. C'è stato grande gioco, mi dici. Sì, in questa corsa siamo già a 10.000. Abbiamo buttato giù un pochettino il 2 perché chiaramente era un'offerta promozionale. Adesso però lo teniamo ancora 1,50. Il 3 sta ricominciando a salire. Commander adesso va in campo. Comunque sono stati giocati 8.000 euro su Meggrisa circa, 2.000 euro circa su Commander Crow. È il totale della giornata Luigi per il momento? Beh, ciao Aldo, aspetta. A quota fissa siamo sotto i 45. È un successone Aldo. Veramente il merito è tuo. Ed è il tuo team. Veramente complimenti. Ma complimenti a tutti. Avete visto oggi che giornata è qui a Dagnano. Lo spettacolo è finalmente il vero pubblico. Primo piano di Enzo Giordano. Ecco, è ancora emozionato. Se lo merita sto primo piano. Pensa un po' che ci ha regalato nella nostra vita. Un cavallo che ha fatto avvicinare nuovamente all'Ippica non solo gli Ippici ma tutti. Salvio, stanno entrando in pista e direi che la presentazione è d'obbligo. Sì. Tanto che Salvio entri in presentazione. si diamo le immagini per quel che riguarda la televisione. Stiamo vedendo Icaldi entrare piano piano. Abbiamo visto Commander Cora, Linda Di Casei. Poi arriveranno anche gli altri. C'è il numero 6 di Mariel. Più alla corda o i bambamesse. E davanti ci sarà niente meno. Signori e signori e signori un po' d'attenzione per cortesia. Ancora Varen davanti, guardatelo, ancora lui ad aprire questa sfilata della finale del Gran Premio Lotteria 2013. accompagniamo con un applauso tutti i cavalli prima della partenza. con il numero 1 i bambèffe della scuderia Leonardo con Andrea Guzzinati. con il numero 2 me Greys SM della Stahl Royal Horse con Roby Andreghetti. con il numero 3 Commander Crow della Geno Gap's Gound con Frank Nivald. con il numero 4 Linda Di Casei del signor Ubaldo Morzenti con Alex Gocciadoro. con il numero 5 Napoleon Barr, signor Emiliano Stecca con Enrico Bellei. con il numero 6 Marielles della signora Sonia Galanti con Roberto Vecchione. con il numero 7 Marlon OM, scuderia Fenomena con Pietro Gubellini. con il numero 8 Langdon Griff del signor Marcello Vecchione con Gaetano Di Nardo. e con il numero 9 Moses Robb, scuderia Sole che Sorgi con Giuseppe Luongo. al proprietario del cavallo vincitore e trofeo storico in argento Macchio Angerino offerta dall'azienda autonome di soggiorno cura e turisme di Napoli. coppa offerta da Cesare Attolini di Napoli e piatto d'argento dall'OPT nazionale. al guidatore coppa offerta dal comune di Napoli. all'allenatore coppa offerta dai podromi partenopei. all'artiere targo offerta dall'ippodromi. e al cavallo vincitore coperta del trofeo Cesare Attolini. Gran premio lotteria 64esima edizione. Per Luigi vuole 500 metri. E allora riprendiamo la linea dallo studio. Luigi, possiamo continuare a commentare dopo questa bella presentazione di Salvio questo gran premio, questa finale di questa lotteria. Megrezz SM 1,60 a quota fissa. Scusate, al totalizzatore, Commander Croa 2,72. Sotto 10 c'è anche Napoleon Bar 9,95. Poi ho i Bambam F 11,51. Abbiamo degli effetti che entrano, ci arrivano. Probabilmente se da Napoli, Luigi, te lo diciamo a te, se si fa un po' di attenzione perché sentiamo qualcuno che parla al telefono. Comunque, continuiamo ad analizzare la corsa e sentiamo le ultime anche da Emilio che ha vissuto fino adesso l'atmosfera dal recinto, dal risonamento. Emilio, non so se ci sente. In ogni caso, entro io e diamo chiaramente le immagini. Commander Croa che sta facendo la sua sgambatura. Beh, entrerei anche un po' sul piano tattico, no? Nel senso che, chiaramente, oi Bambam farà partenza, ma è chiaro che non verrà l'ora probabilmente di mandare Megrezz e a quel punto Commander lo vedremo proiettarsi, penso, all'esterno di Megrezz. Non so se tu sei d'accordo, Emanuele. Ma sì, Luigi, assolutamente. Penso che lo schema sia gioco forza questo. È vero, hai sottolineato tu, l'abbiamo sottolineato. Solo ha tre pedine in campo. Sai, noi siamo italiani, è inutile nascondersi dietro un dito. Potrebbe, qualcuno di questi, potrebbe attuare una tattica un po' più alla Garibaldina e qualcuno magari agire un po' più di rimessa. Mi sembra logico. Oddio, però è vero pure che sono tre proprietari diversi. Insomma, poi bisognerebbe poi metterli d'accordo. Questo non lo so. Però è chiaro che comunque un... quantomeno non si disturberanno, certamente. Questo è poco ma sicuro. Sai, io sono... Ti ripeto, a me Megrezz ha fatto un'impressione stratosferica per il modo in cui ha vinto. Oggi due cavalli mi hanno impressionato per il momento. Megrezz e ovviamente Owens Club. E ti dico che il rammarico di non vedere Owens Club in questa finale è comunque sensibile per quello che ha fatto nella consolazione. Però è chiaro che dobbiamo occuparci di chi c'è. e allora io penso che in questo momento girare fuori o comunque andare all'attacco poi non so quando, se dopo 600, dopo 1000, dopo 400 questo lo deciderà probabilmente Fran Nivard ma è chiaro che questo lo schema andare all'attacco di un calo che rischia di farti 1,10 e spiccioli al chilometro per 1600 metri non è assolutamente una passeggiata. Mi ha raggiunto Emilio per cui con lui possiamo poi anche ultimare il discorso. No, dicevamo Emilio che Megrezz probabilmente al comando perché ho i bam bam credo che non aspetti altro che dimandarlo. E commander a questo punto dovrà decidere se e quando venire di fuori. Dovrà decidere, verrà sicuramente in progressione tra l'altro solitamente Andrechetti cerca di risparmiare qualcosa nelle prime fasi e poi dopo il primo quarto non lo ferma mai su due piedi lo fa sfogare un pochettino per cui i 600 iniziali saranno comunque veloci solitamente rallenta dai 600 agli 800 e quello può essere il momento in cui commander Crow cercherà di piazzare di raggiungere Megrezz per per aprire il match per dare fuoco alle polveri diciamo così quindi dagli 800 in poi daranno tutto io l'impressione che ho avuto ve l'ho detta prima senza sbilanciarmi anche perché ci sono una serie di vabbè comunque per me vince Megrezz SM è facile è facile è facile è chi alla fine ha tagliato ha tagliato ogni discorso Emanuele eh sì l'impressione visiva parliamoci chiaro delle batterie è tutta a favore di Megrezz qui vediamo la falsa partenza per Napolone Bar coda dritta ben ben presentato anche Napolone Bar Napolone Bar voglio dire da da Fabrice Solois non lo so tatticamente voglio vedere come viene certo che se gli fanno fare 600 comodi Megrezz non perde per quello dicevo che forse potrebbero esserci dei dei piani prestabiliti per quanto riguarda i tre allievi di 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 Solois non lo so questa forse è una mia è una mia impressione però potrebbe non essere commander il primo ad andare ad andare a pungolare Megrezz e magari non non concedergli via troppo troppo facile all'inizio senti Emanuele tu che la conosci bene in tutto questo il ruolo di Linda di Casei Linda mi è piaciuta molto come mi è piaciuta molto anche Marielle in batteria arriva vicino guadagna su commander crow è vero che commander visivamente sembrava aver fatto l'arrivo in mano Frustino girato poi non si sa quanto effettivamente ce ne avesse ancora Frennivardi l'intervista ha detto che aveva del buono però l'impressione visiva di ripetere a favore di Megrezz io anche la penso come Emilio Linda gli deve andiamo da salvi di un po' venire basta basta vi rubo un po' la piazza ora basta signori non per niente sto scherzando signori attenzione cavalli che hanno completato le false partenze l'applauso lo chiedo io un attimino ve lo chiedo io l'applauso ma lo vorrei più forte questi sono i partecipanti della finale del Gran Premio Lotteria edizione 2013 oggi è stato polverizzato il record di Varen ma penso che non è finita ancora qui qualche altra cosa può cambiare luce accese non a Milano ma a Dagnano forever Agnano forever Gran Premio Lotteria di Agnano edizione 2013 64esima edizione Bamba MF con Andrea Guzzinati Meg Grace Conan Roby Andre Getti Commander Cloud Frank Nivar Linda Di Casei Alex Gocciador Napoleon Barr Enrico Bellay Mariales Roby Vecchione Marlon O.M. Pietro Gubelini Langdon Griff Gaetano Di Ratti Moses Robb Giuseppe Luongo inizia a prendere velocità la macchina arretrati i numeri alti via la macchina chiusura e match già in partenza tra Meg Grace e Commander Crowe insiste Commander rientra Meg Grace i cavalli affrontano la piegata i cavalli affrontano la piegata vammiti consigli Frank Nivar parcheggia 12 e mezzo Meg Grace al comando è partito alla grande Moses Robb che parcheggia in quarta posizione dietro i due e Oibam F poi Napoleon 27 e 9 400 Meg Grace Commander Oibam F Moses sposta intanto Linda Di Casei per anticipare Napoleone guadagna di dentro Langdon Griff 42 e 7 600 e la Linda Di Casei a sì migliore sposta anche Moses che taglia Napoleone al comando Meg Grace e ora viene chiuso Commander mezzo miglio in 58 e 6 ne viene fuori una corsa super tattica c'è la gabbia per Commander da parte di Linda al comando Meg Grace si va di fronte gettonatura del chilometro in 1 13 e un battito 14 e 4 di frazione 500 alla meta Linda Meg Grace Commander chiuso Moses allargo Oibam F di dentro 13 e 8 di fronte 1 26 e 9 3 quarti di miglio con Meg Grace accompagnato sempre da Linda retta d'arrivo con Meg Grace che allunga prende vantaggio Meg Grace non c'è spazio per Commander Meg Grace controlla ferma Meg Grace i cavalli sono in zona traguardo viene via Commander Meg Grace Meg Grace Meg Grace terzo e numero 1 Oibam F signori chapeau canta Napoli canta Napoli ancora una volta una pennellata di Roberto Andreghetti ha tenuto chiuso come non mai come un ergastolano Commander Kraut scappa via al momento giusto e indirittura se ne va se ne va se ne va Meg Grace Bissa quello che ha vinto lo scorso anno ma oggi ancora una volta con una pennellata di Roberto Andreghetti 2-3-1 Meg Grace Robi Andreghetti la Stal Royal tutti in premiazione e un grande Lucio Colletti a cui va veramente un augurio subito di pronta guarizione muy muy bien go go baby go per Meg Grace e tutto il suo team linea alla regia e grazie per l'ascolto da zio Salvio alla prossima volta fa ancora caldo stessa spiaggia stesso mare buonasera a tutti non abbiamo sentito da Salvio il tempo finale di questa di questa finale della lotteria corsa che è venuta se così si può dire tattica anche se chi è andato via in 1.13 appena abbondante vittoria per Meg Grace SM era il favorito della vigilia era il ruolo che aveva rafforzato dopo SM prego la regia appena possibile di mandare nuovamente in onda le immagini della retta d'arrivo retta d'arrivo tattica abbiamo apprezzato Roberto Andreghetti che ha tenuto chiuso il più possibile Commander Crowe che aveva ripiegato nella sua scia dopo il velocissimo lancio all'esterno una notevole Linda di Case che però è accusato nel finale terza emersa Oibambam F quindi i tre vincitori delle batterie al primo al secondo e al terzo posto se così si può dire è stato premiato al tutto sommato alla fine quello che aveva meritato di più e che aveva fatto vedere di più e anche probabilmente anzi sicuramente il più forte in assoluto Meg Grace SM Commander Crowe è un campione sottolineiamolo ricordiamolo è arrivato si è dovuto adeguare secondo terzo posto per Oibambam F ecco qui la retta d'arrivo con Roberto Anderghetti che ancora non scatta vedete si gira tre volte quattro volte adesso da il l'ultimo chiede l'ultimo sforzo a Meg Grace nei cento conclusivi e Commander Crowe può solo adeguarsi al posto d'onore terza Oibambam F siamo tornati in diretta allora andiamo a sentire se già momento di premiazione andiamo a sentire se c'è qualcuno che è pronto a interagire con noi da Napoli vai 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 con il libro vai 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 ma il libro vai grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Allora, io prima delle premiazioni vorrei far fare un passo avanti. Signore, guardate qui. Questo è l'allenatore di McGrace. Guardate come sta acconciato. Tu mi permetti che io dico una parola in più per divertimento perché bisogna anche divertirci. Hai avuto una grandissima soddisfazione. Hai avuto una brutta caduta, purtroppo. Però ti vedo l'impiedi ma soprattutto vedo che ha vinto McGrace. Che cosa vuoi dire? Io in primis vorrei dire che ha vinto il pubblico di Napoli e la gente che ha permesso che questo evento si ripetesse e che io quando sognavo da bambino che veniva a vedere lotteria ho quasi ripercorso quegli eventi. Il cavallo è un fenomeno, un grandissimo campione. Oggi l'ha dimostrato. Non potevo venire ma sono venuto per rispetto di questo pubblico e di queste grandi persone che non voglio menzionarle uno per uno che hanno permesso la riapertura dell'impianto. Dobbiamo tutti sperare che l'Ipica italiana prenda questo spunto per poter risorgere. Signori un applauso, non ce la fa più a parlare. Ma è la vittoria di McGrace che gli augura pronta guarigione. Questo è Lucio Golletti. Sicuro, sicuramente tornerà il cavallo più forte di prima e spero anch'io per l'anno prossimo. Vedendo Varen e vedendo McGrace due campionissimi. Varen è inavvicinabile, però lui diciamo che in questi anni ha dimostrato e oggi ha consolidato la sua fama. È un grandissimo fenomeno dell'Ipica italiana e questa gente lo ama. Il proprietario è napoletano e per cui speriamo in un grande proseguo per la carriera. Grazie, un applauso. E ora il proprietario, Filippo Daponte. Io mi sa che già ci siamo incontrati l'anno scorso, sbaglio? Sì, ci siamo incontrati qua l'anno scorso. Innanzitutto volevo ringraziare la famiglia D'Angelo per quello che ha fatto per l'Ipropo di Napoli. Mi sento orgoglioso di essere napoletano e di aver vinto un altro premio di nuovo da un napoletano. Non ho altro da dire. Ringrazio Lucia e tutto lo Stato. Allora, io vorrei... L'Avvocato Giuseppe Lucarelli qui vicino a me. Grazie. Facciamo le consegne. Prego, non vado più avanti. Vieni qua. Da questa parte. Ecco, in mezzo, per cortesia. Avvocato di qua. Ecco qua. Prego, la prenda lei e deve dare lei. Perché lei è quella che deve premiare. Giri, giri, deve girare, Avvocato. Avvocato, Assessore, via. Vai, aspetta, l'impremiazione. Grazie. La foto, per favore. Poi vorrei vedere l'Assessore Palmieri qua vicino a me. La ringrazio. Vorrei anche Fatima a premiare. Fatima. Fatima Trotta qui vicino a me, per cortesia. Eccola qua. Allora, guarda, tra due belle donne. Che vuoi di più? Megrecia ha vinto il lotte. Anzi, tre. Tre belle donne. Prego. Al guidatore. Eccola qua. Complimenti. Eccolo qua. Complimenti, signor Roberto. Allora, due parole con Roberto ora. Nell'intervista prima, quando hai vinto la batteria, te ne sei scappato. Un po' di emozione? No, beh, l'emozione, guarda, rivedere Agnano Piena, l'emozione viene. Esatto. Perché poi lotteria è lotteria, ma senza pubblico, senza il pubblico di oggi, senza l'impegno che ci hanno ammesso, noi sappiamo chi, era difficile. Senti, la corsa l'hai vinta andando al comando e tenendo chiuso Commander Crow o sbaglio? La corsa l'ho vinta perché ho un cavallo che è veramente un computer. È difficile metterlo in difficoltà. Commander a un certo punto mi è sembrato che abbia pensato che il secondo andava bene. E se è stata bene. È vero che potrebbe essere mettito anche il telecomando oppure il pilota automatico? No, quello no. Però gli leghi le guide e gli dici cosa fare. Una pausa a Roberto Andreghetti, signori vincitore bis. Andiamo avanti. Prego. Allora, volevo ringraziare il proprietario che ci ha ringraziato come famiglia d'Angelo, ma la famiglia d'Angelo non ha avuto un ruolo determinante. Il ruolo determinante è stato di tutti i soci dell'Eppodono Partenopei e dei dipendenti di questa struttura. Ve l'abbiamo riconsegnata, l'abbiamo consegnata a Napoli. Speriamo che voi ve la sappiate mantenendola e rimanendola, lasciandola pulita quando venite qui e conservandola bene. Noi faremo di tutto per offrirvi sempre uno spettacolo migliore e all'altezza di voi e di Napoli. Grazie. Allora, andiamo avanti con la premiazione. È arrivato a Tolini, se non sbaglio, vero? In premiazione. Eccoci qua. Allora, al proprietario, coppo offerto da Cesare a Tolini. Prego, da Ponte, vieni qua vicino ancora. No, no, non ti nascondere. Prego. Prego, si accomodi. Non ti nascondi. E vieni tu, vieni tu. Ecco qua. Prego. Lui è proprietario e non è il guidatore, lui. Vabbè, complimento ugualmente. Grazie. Allora, piatto d'argento, offerto dall'Unione Proprietaria Trotto. Eccolo qua, l'Avvocato Gragnanello. Prego. Andiamo avanti. Vorrei ora Lucio Colletti qua vicino a me. Vorrei Albanese vicino a me e anche Michele Giuliano. Prego. Premiamo perché all'allenatore c'è una coppo offerto. Dall'Ippodromi partendo Pei. Venga. Guardare davanti, non andare oltre. Scusami. Eccolo qua. Sì, prego, prego. Albanese, venga più fuori. Allora, lui già ha parlato e basta così perché è vero, esatto. Poi tua moglie ti sgrida, ti picchia. Allora, che effetto fa a vedere tanto pubblico ad Agnano? Stasera penso che ha vinto Napoli più che altro, che è una cosa bellissima a dire di tutta questa gente qui. Purtroppo è calato un po' di freddo. Penso che a Milano stavano col cappotto. Ma che c'è un po' di freddo è relativo. No, voglio dire, è una febbre da cavallo a Parigi, questo voglio dire. Però volevo fare i complimenti all'organizzazione, al cavallo che ha vinto. È un applauso speciale per Leone Cuore, a Barenna, che ormai è un po' vecchio, anzi è talmente vecchio, con vostri succhi di Pandofola. Però mi fa molto piacere averlo visto stasera ancora qui, trionfante. Un applauso anche ad Albanese, grazie. Andiamo avanti. Sì, eccola qua, eccola qua. Prego, eccola qua. Lucio Colletti. Guardate lì, eccola qua. Grazie. Ora all'artiere del cavallo vincitore, targo offerta dall'Ippodrimio Partenopeo. Pierluigi, è la volta tua. Pierluigi, vieni qua. Vieni qua. All'artiere del cavallo, vieni. Eccolo qua, che sta sempre in televisione. È lui che sta sempre in televisione. Eccolo qua. Prego. Ora, ora, facciamo, facciamo. Io vorrei fare tutti i soci con la coperta offerta proprio da Cesare Attolini. E così chiudiamo tutto il pomeriggio. Eccolo qua. E ora, signori, un attimo di attenzione. Ecco qua. Su. Non in testa a me, però. Vai. Ok. E allora, signori, ora, tutta la società, della nuova società di Agnano, insieme a Cesare Attolini, che noi ringraziamo veramente vivamente questo sponsor così importante che ha dato lustro a questa 64esima edizione, la coperta al cavallo vincitore, offerta da tutta la nuova società e da Cesare Attolini. Diamo la coperta. È andato via il cavallo. Signori, il Gran Premio edizione 2013, griffato, Cesare Attolini, è finito. È finito ed è finito alla grande come è iniziato alla grande. 20 giorni fa qui era una palude. Veramente non si poteva entrare nell'ippodromo. Credetemi, io che tutte le mattine alle 8 sono all'ippodromo, mi sono trovato in una reggia. Prima io veramente non mi sentivo più a mio agio. E questo è tutto merito della nuova società e soprattutto di tutti i lavoratori dell'ippodromo di Agnano che hanno conseguito questo successo. Io ringrazio loro, ringrazio la nuova società, ringrazio chi ha vinto il lotteria e vi dico grazie a voi che mi avete e ci avete accompagnato tutto il pomeriggio. All'anno prossimo, ma per il lotteria soltanto, ma da giovedì ricominciano le corse. Buonasera a tutti e grazie. E siamo noi... Ah, mi hanno detto stessa spiaggia, stesso mare perché fa caldo non come a Milano. Grazie. Buonasera a tutti. Il luogo che vai e una che trovi e siamo... grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.